La notizia pubblicata dal giornale di Brescia che ogni 5 ore in provincia viene rubata un'auto ha sollevato un altro polverone nei palazzi romani. Sotto accusa è finito il ministro all'interno, Angelino Alfano, colpevole secondo il deputato Davide Caparini di aver abbandonato le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine, poverete, hanno veramente le mani legate in questo momento, sono sotto organico, mal pagate, non hanno gli strumenti per fare quello che dovrebbero fare. Alla questura di Brescia, così come al commissariato Carmine e a quello di Desenzano, l'organico è in sofferenza come già dallo scorso ottobre 2013, ha denunciato il sindacato italiano unitario lavoratori polizia. I carichi di lavoro sono impressionanti per l'ufficio immigrazione e alla divisione amministrativa, con la contestuale diminuzione del 10% del personale della squadra mobile della Digo, mentre la volante al massimo dell'organico ha tre pattuglie ogni quadrante orario e delle sette zone istituite nel 2002 siamo passati a quattro. Negli ultimi cinque anni la questura di Brescia ha perso ben 70 poliziotti rimpiazzati solo da 6 nuove forze fresche e il fenomeno dei furti d'auto è tornato a crescere con un più 8% di denunce tra il 2011 e il 2013 in tutta la provincia di Brescia.